Allora siamo arrivati quasi alla fine del calendario, ci sono ancora tre mesi, tre mesi da fare, questo, come state vedendo, stiamo realizzando il mese di maggio 2013, a maggio ci sarà solo una modella, perché abbiamo deciso così, e poi arriveranno le altre due modelle del mese di aprile, che saranno la Valentina Zolli e la Jessica Krismancis. Adesso vediamo, intanto salutiamo, saluto di nuovo perché l'altra volta non l'ho salutato, tutti gli amici di Facebook e tutti gli amici di YouTube, mi sono dimenticato perché siete veramente in tanti, grazie davvero di seguirci così in tanti, e continuiamo con questo Miss Jress Officer Candle 2013, da Miss Jress, a voi studio. Miss Jaltres Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.